Salvatore Alessi e Giovanni Vezzose, susiditi a Colloquio A Isle, Salvador Buongiorno signor direttore Ma voi sempre qui siete? Questa volta di che cosa siete accusati? Rabina direttore Io le notte stiamo a cattar Direttore ci ha t'aiuto Stabila nostra s'ha da gani Stiamo a cattar Puoi sentire Non ce va a abundar Direttore a la piedra Stiamo a guardare un giorno Aggi manca per atta Stiamo a cattar Stiamo a cattar Stiamo a cattar E di sì Che bui stanno Stiamo a cattar E di sì E di sì Stiamo a cattar 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 Ascoltate la sentenza Per poterci la segna Se con tu io voglio cercare Solo il giudice si può salvare Guardi, portateli in cella, portateli via Questa volta neanche Dio vi salverà Via, via!